Sport di Chiarbola con Trieste che ospita il Bolzano, partita valida per il recupero della quindicesima giornata della Serie A Beretta a suo tempo rinviata per le diverse positività al Covid degli altoatesini la squadra più titolata degli ultimi dieci anni, il Bolzano, contro la squadra più titolata nella storia della pallamana italiana il Trieste, due squadre ricche di storia ma che entrambe stanno affrontando un periodo di fatica in questo periodo, l'obiettivo di Trieste è diventato evitare la zona play-out i biancorossi arrivano da tre sconfitte consecutive, hanno assoluto bisogno di vincere per allontanarsi dall'attuale quart'ultimo posto che ad oggi significherebbe giocare i pericolosissimi play-out e retrocessione gli ospiti Bolzanini arrivano invece da una sofferta vittoria in quella di Siracusa arrivata col punteggio di 23-25, il Bolzano è ora settimo a metà classifica nella cosiddetta spiaggia, mi piace chiamarla, indietro di otto punti rispetto al quarto posto che varrebbe play-off avanti di sette punti invece sul quarto ultimo che varrebbe appunto i play-out all'andata a settembre il Palaga Steiner hanno vinto gli Alta Tesini per 28-23 in quell'occasione da segnalare i nove gol di Turkovic ma all'andata non c'eravamo al microfono io e Marco Loduca speriamo di portare fortuna oggi al Trieste ciao Marco buonasera a tutti, speriamo di portare fortuna una partita fondamentale per noi in casa ci serve, abbiamo bisogno assoluto di fare punti proprio per allontanarci come detto bene tu dal quarto ultimo posto che vorrebbe dire giocarci la roulette dei play-out per noi oggi è una partita direi quasi fondamentale proprio perché ne mancano sempre una in meno rispetto al calendario e quindi è importante cercare di fare punti incontriamo una squadra che per quello che posso dire non punta, è tranquilla nel senso che non punterà non riuscirà a arrivare ai play-off e nemmeno anche perdendo oggi arrivare ai play-out e quindi una partita, una squadra che ha poco da chiedere a questo campionato però lo stesso, temibile perché come hai detto bene da Turkovic forse il giocatore migliore di che in Serie A Beretta offre al panorama italiano alla Dakis, a Mata, al rientrante Gaeta al portiere, per Hermones sono una squadra sicuramente completa hanno anche loro tanti giovani però diciamo che nel starting seven sicuramente sono una squadra che ha tanto da dire ancora assolutamente, anche perché si è pure rinforzato nel mercato invernale il Bozen, l'ultimo arrivo, qua Ignazzo Cantore 32enne è arrivato nel mercato di riparazione non è un vero realizzatore ma ha una grandissima visione di gioco molto abile nella costruzione del gioco l'italo argentino Trieste in maglia rossa Bolzano in maglia bianca Trieste che attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi se avete scaricato l'app di Eleven Sport sul vostro smart tv o dei vostri dispositivi se state seguendo il match sul tablet oppure sul cellulare ormai la palla a mano grazie anche a Eleven Sport si può seguire ovunque in qualsiasi momento arbitri dell'incontro la coppia Schiavone e Davide Nicolella e Luca con lo starting seven di Trieste che comincia con il numero 21 Zoppetti tra i pali poi vediamo sulle tavole parchettate Di Nardo, Sandrin, Rovatin che ha avuto un problemino fisico in settimana ma dovrebbe aver recuperato Bratkovic Radojkovic e infine l'inamovibile Capitan Visintin pochissimi minuti all'inizio del match squadre entrambe gravate da gravi infortuni Trieste l'ultimo in ordine di tempo quello di Lorenzo Nocelli che si è operato in settimana al ginocchio gli auguriamo pronta guarigione dall'altra parte manca l'alta tesina Sonnerer anche lui infortunato al ginocchio così come infortunato per Bolzano l'ex Trieste Udovicic di cui abbiamo piacere chiaramente ricordare perché ha ben figurato quando vestiva la maglia rosso-bianca match iniziato con il Trieste in attacco la difesa 6-0 della Lohacker scambiano Di Nardo e Rovatin ancora Rovatin per Sandrin Radojkovic Sandrin Radojkovic il consegnato per il Capitan Visintin Sandrin Rovatin sulla destra per Bratkovic è tutto chiuso l'incomprensione con i compagni la palla persa del Trieste allora parte per la prima azione il Bolzano tunnel a Zoppetti gol del numero 3 Luis Felipe Gaeta terzino destro classe 82 brasiliano arrivato a Bolzano addirittura 11 anni fa su è la prima marcatura del match Bolzano che apre le danze 1-0 per gli altoatesini dopo un minuto di gioco abbiamo visto Marco subito il contropiede e la velocità della squadra avversaria sicuramente quella è un'arma molto importante per loro hanno un buon portiere è chiaro che la prima fase è per loro determinante hanno anche devo dire la verità due buoni tiratori Mata e Ladakis oltre a Turkovic è una squadra ben completa Pasini sull'area sinistra che viene da Siena ma secondo me è uno dei migliori interpreti in quel ruolo noi dobbiamo lottare su ogni pallone oggi c'è poco da da chiacchierare c'è molto da fare è chiaro che sarà una partita durissima però per come deve iniziare deve iniziare nel maniera minimale dobbiamo dimostrare che siamo in casa noi e cercare di portare a casa il risultato la finta di Sandrini il passaggio a Radojkovic lo scambia con Visintin non riesce a parare la Hermones con un po' di fortuna si sblocca anche Trieste a marcare capitane Visintin ora alto in difesa 5-1 voluta da coach Freddy Radojkovic con Visintin in punta cantore a giocare da centrale per gli alto attesini e lui il metronomo della squadra affidata a coach Mario Sporcic ancora cantore sulla destra per Jonas Matà qui c'è il fallo di Trieste col ministro della difesa Aldini classe 2002 ma ormai anche lui una delle colonne della società giuliana sempre più minuti meritatamente sulle tavole parchettate delle palacchiarbole attenzione il passaggio dietro la schiena di cantore per Pasini poi sotto passivo il Bolzano deve andare al tiro la parata di Zoppetti che non si fa sorprendere la prima parata di Nicolo Zoppetti per il Trieste punteggio che resta in parità sull'1-1 dopo tre minuti abbondanti di gioco ora la palla intercettata da cantore il contropiede sbagliato la parata ancora di Zoppetti che sale nuovamente in cattedra negare un gol già fatto per cantore dall'altra parte il lob meraviglioso di Adam Bratkovic 2-1 da Capodistria il classico tiro di Bratkovic una smorzata tra le braccia di Hermones molto bene grande Zoppetti con questo doppio intervento veramente providenziale chiaro che le loro armi le bocche da fuoco saranno Gaeta Cantore e Turkovic però se riusciamo a chiudere bene con questa 5-1 che ha impostato Radoicovic con Visentini in punta e riusciamo a limitare appunto il metronomo cantore abbiamo qualche chance in più proprio perché anche da fuori loro non avranno grandi tiratori come lo vediamo anche noi Turkovic è marcato da Bratkovic rinuncia il tiro va a destra per Ladachis che va a sbagliare il tiro Matà scusate è andato a sbagliare il tiro tiro alto Trieste 2-1 prova ad allungare tiro largo da parte di Visentini era davvero molto stretto l'angolo per cercare di impenserire Hermones si resta sul più 1 Trieste dopo 4 minuti e mezzo di gioco mentre torna in campo anche Dejan Turkovic il capocannoniere del campionato della scorsa stagione questo è un attualmente quinto nella classifica marcatori con 99 reti all'attivo il miglior marcatore dei triestini invece Adam Bratkovic con 68 gol in stagione ed sono proprio i due appena citati ad andare al contatto Turkovic per Cantore vedete ancora la 5-1 di Trieste con anche Aldini che va ad alzarsi a pressare ed è proprio il pressing di Aldini che quasi quasi andava a determinare il recupero da parte di Trieste gli abiti hanno fischiato invece una penalità ora ancora il pressing falloso di Capitan Visintin su Dejan Turkovic giocatore che può giocare sia da terzino che da centrale poi il gol di Gaeta che va a sorprendere Zopetti tiro deviato che finisce alla sinistra del portiere 2-2 al palacchiarbola Radojkovic c'è ancora Visintin questa volta l'angolo è un po' migliore secondo palo centrato 3-2 Trieste con due reti di Visintin e ogni partita sembra sempre più giovane si si ringiovanisce in base alle partite che fa più partite fa più ringiovanisce è un esempio per questa società un monumento di questa società c'è solo da ringraziare per tutto quello che sta dando anche lui dell'82 quindi ai suoi anni però veramente è un esempio per i giovani al di là dell'impegno che è profondo in ogni partita è il mazzo che si fa in ogni partita e Trieste si sta facendo collettivamente però anche il mazzo in difesa infatti arriva un recupero propiziato da Adam Bratkovic ora Trieste in contropiede in superiorità numerica Visintin per Bratkovic rinuncia al passaggio a Sandrine solo davanti a Dermones Adam Bratkovic fa 4 a 2 e Trieste vola più 2 dopo 6 minuti e 40 frutto anche della gran difesa attenzione però perché vediamo Massimiliano Di Nardo zoppicare tornare in panchina credo una scavigliata di tutto ha bisogno Trieste in questo momento tranne che di un altro infortunio perché veramente non c'è limite alla sfortuna in quest'ultimo periodo per la squadra Giuliana è entrato Pernic al suo posto Mizzoni al tiro e la parata di Zoppetti che si esalta la parata a pelle d'orso col piede su Zoe Mizzoni il pivò nato a Palermo ha cresciuto nell'Enna e ora fa il suo ingresso nel match anche Rovatin che poi però è stato bloccato dalla difesa Bolzanina sempre in 6-0 circolazione di palla da parte dei Giuliani con Rovatin a scambiare con Sandrine Radojkovic ancora Sandrine Radojkovic 5-2 parziale di 3-0 Trieste un buon momento un buonissimo momento stiamo attaccando molto bene la 6-0 l'oro diciamo che in mezzo tra Mata e la Dachis forse sono un po' statici e quindi riusciamo a trovare con qualche passaggio in più in penetrazione il tiro dai 6 metri peccato per Di Nardo perché sembra abbastanza necessario l'infortunio che ha però abbiamo la fortuna di avere un Naldini che può ricoprire in attacco il ruolo di pivot ma soprattutto in difesa come in questo caso un grandissimo peccato un grandissimo recupero però da secondo in difesa si è spostato al centro della difesa e veramente la sua forza è l'attacco e la difesa e devo dire la verità sta giocando molto bene questo campionato contropiede spiercato da Trieste con il passaggio lungo di Aldini per Bratkovic sul versante opposto accorcia le distanze il Bolzano con Zoe Mizzoni dall'angolo a marcare il meno due alto tesino 5 a 3 il punteggio dopo 8 minuti e 50 di gioco abbiamo visto invece rientrare nel tunnel degli spogliatoi Max Di Nardo dopo il contatto credo la scavigliata speriamo logicamente non sia nulla di grave per Trieste che già ha un roster ai minimi termini ma andiamo a seguire il match c'è Radojkovic braccato fallosamente da cantore e ci sarà il primo tiro dai 7 metri della gara affidato ad Adan Bratkovic come detto il miglior marcatore dei triestini in questa stagione con 68 gol relativo 70 con i due già segnati stasera e facciamo pure 71 con Trieste che si riporta a tre distanze di lunghezza dalla Loaker Bozen ora Turkovic riceve cantore il fallo di del numero 33 Lucas Andrin terzino triestino classe 99 ancora Turkovic la finta la spinta di Bratkovic tiro dai 9 metri per Bolzano ora Trieste in 6-0 Turkovic da qualche indicazione ai propri compagni uno dei giocatori più esperti non solo di Bolzano ma dell'intero campionato la virata proprio dello straniero in forza Bolzano e ancora la penalità inflitta al Trieste cantore giocatore molto veloce sia di gambe che di braccio suo sua la firma sulle gole della 6-4 Radojkovic la finta di passaggio poi la trattenuta di cantore con i Bolzanini non d'accordo con la decisione arbitrale era un fallo non cattivo ma evidente Sandrin riceve Radojkovic Rovatin sulla sinistra Sandrin è sempre una 6-0 la difesa voluta da coach Mario Sporcic il tecnico della squadra Bolzanina poi la parata di Hermone sul tiro di Rovatin ma c'è stato il fallo proprio sul numero 6 di Trieste con gli arbitri che fermano il tempo per asciugare qualche chiazza di sudore sul parquet Luca 6-4 dopo 11 minuti e 40 di gioco per il momento una partita godibile in cui Trieste mi sento di dire sta continuando il buon gioco visto nella difficile trasferta di Sassari partita in terra sarda nella quale Trieste ha perso 30-25 ma che comunque ha fatto vedere l'orgoglio da parte di Triestini una partita dove il primo tempo era praticamente giocatore a pari con una delle candidate al titolo allo scudetto veramente molto buona e di verità si vedono delle trame interessanti veramente anche in questo caso il doppio volante è Visentin Bratkowicz qualcosa preparato in allenamento ma si vedono veramente delle trame interessanti chiaro dobbiamo fare un po' il gioco che possiamo fare ovvero non tanto il tiro da fuori ma cercare delle penetrazioni o delle azioni un po' un po' particolari proprio perché appunto mancandoci dei tiratori giocando con Sandrini a destra con destro di mano è chiaro che è difficile ipotizzare la loro si sono messi bene in difesa 6-0 sicuramente una difesa 6-0 abbastanza dura da attaccare però abbiamo visto fino ad ora dopo 12 minuti con Bratkowicz e Visentin si allarghiamo il gioco sulle ali possiamo avere possiamo dire la nostra oggi dall'altra parte devo dire la verità dobbiamo stare molto attenti soprattutto a Turcovici sicuramente la loro bocca da fuoco principale però la stiamo contenendo molto bene per adesso gran gol gran gol questo di Visentin vedi dobbiamo trovare questo tipo di azioni qui un po' al volo cercare un gioco diverso dal gioco classico diciamo dei terzini e lì dobbiamo allargare il più possibile proprio per cercare di permettere dare aria e trovare spazi dove viene più facile in questo senso qui Visentin è già a tre gol e Bratkowicz a due questo lo dice lunga il volteggio in aria di Capitan Visentin con una sospensione degna di un ragazzino di vent'anni sua sua è la firma sulla settima rete dei triestini ora nuovamente in vantaggio di tre gol dopo 13 minuti e mezzo mentre abbiamo visto il fallo subito da Turkovic Mizzoni alla battuta Turkovic sale Pernic in difesa per i triestini poi il fallo su Gaeta due minuti dati dagli arbitri a Pernic per questa trattenuta su Gaeta e quindi ora il Bolzano avrà due minuti di superioreità numerica Gaeta Cantore Turkovic al volo per Mizzoni palla intercettata l'uscita di Zoppetti attenzione vediamo cosa decidono gli arbitri c'è stato il contatto tra il portiere di Trieste Zoppetti e credo Cantore Pasini Pasini gli arbitri non hanno fischiato per il momento nessun fallo hanno soltanto interrotto il cronometro si stanno per ora confrontando è stata un'uscita un po' azzardata quella di Nicolò Zoppetti con un passaggio sporcato che si è impennato era lì al limite dell'aria e attenzione due minuti di esclusione al numero nove Filippo Pasini e quindi ne esce meglio Trieste si diciamo un po' convulsa l'azione nel senso che la palla è schizzata in alto per la deviazione di Mizzoni sono saltati insieme Pasini e Zoppetti e in quel momento gli arbitri non hanno fischiato niente era in area nella sua area quindi era lui che diciamo tra virgolette predominava l'azione l'ha recuperata probabilmente Pasini avrà avuto qualcosa da dire all'arbitro e quindi ha preso i due minuti però dico la verità non mi sembrava che Zoppetti sia intervenuto malamente su Pasini e viceversa quindi il gioco mi sembra una scelta corretta quella interpretata dagli arbitri più che altro si era a mezzo metro dentro l'area azzurra per cui da regolamento l'attaccante non poteva entrare quindi il contatto con il portiere ha sancito la decisione poi dei due minuti Trieste che adesso gioca senza portiere per avere l'extra player scelta coraggiosa da parte di coach Freddy Radojkovic andiamo a seguire l'attacco dei biancorossi Sandrine per Bratkovic chiusa la difesa allora torna Rovatin Trieste sotto passivo ancora Rovatin per Sandrine la finta il tiro la parata di Hermone si salva in qualche modo la compagine alto a Tesina che resta sotto di tre lunghezze quando ci avviciniamo al giro di boa della prima frazione mentre rientra in campo anche il greco 25enne Emanuele Ladachis giocatore dotato di gran fisicità Turkovic intanto prova a scoccare la bombarda tiro deviato la palla poi è finita fuori anche in questo caso si salva Trieste con una buona difesa è stato attento Bratkovic giocatore spesso al posto giusto nel momento giusto lo sloveno in forza Trieste mentre è entrato per Trieste con il numero 20 anche il terzino serbo Alexander Stojanovic classe 2004 mentre sentite i tamburi dei tifosi triestini proprio Stojanovic Radojkovic Bratkovic sul primo palo non ci casca Hermone se poi da porta a porta arriva il gol del numero 4 Emanuele Ladachis e accorcia ulteriormente il Bolzano si è fatta sorprendere qui il Trieste lo dicevamo scelta coraggiosa quella di giocare senza portiere può portare i suoi frutti per avere avendo l'uomo in più in attacco poi però se perdi palla così repentinamente rischi di subire un gol senza senza sforzo da parte degli avversari con il nuovo regolamento quasi tutte le squadre anche a livello nazionale abbiamo visto Italia e Slovenia proprio l'altro giorno giocare con l'extra player è diventata quasi una regola fissa nel momento in cui sei in inferiorità numerica è chiaro che ti presti il fianco come in questo caso al rischio di perdere palle o di sbagliare un tiro abbastanza facile il portiere recupera e hai la porta sguarnita però è anche vero che ti permette di giocare in attacco con un giocatore in più quindi sui pro e sui contro va interpretato molto bene ecco nell'insieme del gioco tanto palla recuperata da Mizzoni su Radojkovic poi c'è stata l'infrazione da parte di Luis Felipe Gaeta palla recuperata dalle Trieste Rovatin prova a forzare il ritmo Bratkovic a spazio secondo palo Adam Bratkovic la rete dell'8 a 5 con Trieste che torna più 3 e c'è il primo time out della gara chiamato da coach Mario Sporcic che vuole rivedere un attimo la faccenda attenzione cartellino giallo per il dirigente Bolzanino con gli arbitri che richiamano i giocatori in campo quindi ci sono cascato anch'io non è stato chiamato time out penso che aveva capito così buona parte del palazzetto invece si riprende sul risultato di 8 a 5 in favore di Trieste ci sono state delle proteste da parte della panchina altra tesina subito sedate con l'estrazione del cartellino arbitri per il momento che stanno controllando il match con Buonpolso tanto abbiamo visto rientrare Di Nardo ma ora tornare negli spogliatoi sta facendo stretching forse non è nulla di grave la scavigliata subita precedentemente nel frattempo il fallo di Pernic su Turkovic diciamo il perno della squadra Bolzanina ora il fallo commesso da Aldini Turkovic cerca Mizzoni in area è bene coperto chiuso da Visentin ancora il fallo di Aldini su Luis Felipe Gaeta giocatore che con Bolzano ha vinto tutto Luis Felipe Gaeta ora il tiro e il gol di Manuel Ladakis il cretese è arrivato a Bozen quest'estate dalla Santarelli Cingoli che l'anno scorso è retrocesa ma con i marchigiani Ladakis aveva segnato bene 181 gol lo scorso anno classificandosi come settimo miglior marcatore del campionato lui che nel 2016 vanta anche la vittoria di un campionato greco sua la rete del meno 2 Bolzano sull'8 a 6 ora attacca Trieste Rovatin Radojkovic Stojanovic dalle retrovie Rovatin prova a sorprendere Pedro Hermones che invece ci mette una pezza ed ora il passaggio lungo per il numero 9 Pasini che non manca l'appuntamento con il gol e attenzione perché il Bolzano si rifà ad una sola lunghezza di distanza 8 a 7 dopo 19 giri di lancette al Palachiarbola nuovo equilibrio ed ora si che arriva il time out chiamato da coach Freddy Radojkovic che ha visto questo piccolo momento di impasse dai suoi sicuramente è una partenza buonissima un 2 giri a vuoto con le parate di Hermones adesso ci ritroviamo noi là con loro è chiaro che facciamo fatica però abbiamo trovato delle occasioni buone poi dai 6 metri Hermones ha fatto il suo come lo sta facendo anche D'Aresto Zoppetti nell'altra parte però effettivamente dobbiamo cercare di limitare al massimo gli errori al tiro proprio per poter non permettere il contropiede come in quest'ultimo caso di Pasini e cercare appunto di contenerli sulla difesa schiarata dove effettivamente fanno fatica ad attaccarci sto vedendo un grande Aldini in difesa che sta chiudendo un po' tutti i varchi su Turcovic o su Gaeta che sia quindi direi che la difesa schiarata siamo presenti è chiaro se sbagliamo troppi tiri dai 6 metri prestiamo il fianco ai loro contropiedi con Pasini molto veloce e così è chiaro che diventa difficile poi contenerli dobbiamo riuscire a cercare di sbagliare il meno possibile sulle azioni che riusciamo a creare assolutamente sono d'accordo con la tua disamina Marco squadra fisica quella Bolzanina ma anche molto veloce dopo i recuperi nei contropiedi match ripreso con Trieste più 1 8 a 7 in campo Bratkovic Rovatin Aldini da pivò Stojanovic Radolkovic da centrale Visintin da terzino sinistro Zoppetti tra i pali Rovatin Radolkovic Aldini è triplicato lì sulla linea dei 6 metri allora si va da Stojanovic che torna al centro per Rovatin il consegnato per Radolkovic c'è però l'infrazione da parte di Trieste e non è riuscita a trovare una buona conclusione in quest'ultimo frangente mentre continua la girandola di cambio voluta da coach Mario Sporcic rientra in campo il pivò serbio classe 99 David Glidgic ex Molteno altro ragazzo molto forte dal punto di vista fisico infatti va subito a schierarsi da pivò lì dove è tornato in campo Max Di Nardo per Trieste Bolzano va da Gaeta poi da Turcovic non si intendono bene i due vuole il passivo Trieste la Dakis scambia con Turcovic braccato da Bradcovic poi il brutto passaggio sulla sinistra per Pasini palla recuperata dai biancorossi mantengono così il vantaggio mentre Trieste inserisce Gabriele Mazzarola al posto di Jack Rovatin non al pieno delle condizioni oggi no sicuramente paga la distorsione leggera distorsione che ha subito a Sassari al ginocchio vediamo una cosa un po' inedita in questa stagione ovvero Bradcovic in posizione di terzino destro e Mazzarola può essere una chiave di lettura per cercare di velocizzare l'attacco però sicuramente ci limita col tiro da fuori però può essere una mossa studiata da Radojkovic proprio per cercare di prendere in contropiede un po' la difesa abbastanza statica di Bolzano Stojanovic con la bombarda bassa sul primo palo Alexander Stojanovic 9 a 7 Trieste poi la Dachis in mezzo della difesa triestina tra Bradcovic e Mazzarola il greco alto quasi due metri va ad accorciare nuovamente le distanze per il Bolzano 9 a 7 il punteggio partita briosa vivace ancora una volta gli altoatesini sono andati a marcare nel gioco veloce mentre Trieste la maggior parte delle nove reti le ha segnate invece la difesa schierata questa mi sento di evidenziare dopo questi 22 minuti un recupero di la Dachis il passaggio in contropiede per Pasini a Tubertu con Zoppetti va a segnare l'ala sinistra Filippo Pasini ex Siena aveva giocato anche a Ferrara a Bologna oltre che nelle rappresentative delle nazionali giovanili e suo il gol del 9 pari con Trieste che ha sciupato così un vantaggio di tre reti eravamo sull'8 a 5 non meno di 4-5 minuti fa Bratkovic va da Radojkovic trova il Pertugio Hermones però chiude lo specchio della porta e poi il fallo di sfondamento su Aldini gran difesa da parte del numero 4 che ora prova ad ergerci il protagonista anche in fase offensiva la difesa alta tesina però è brava a tornare velocemente in difesa allora si va per un'azione più ragionata mentre entra in campo anche Davide Parisato con il numero 14 va a schierarsi in posizione di terzino sinistro mentre c'è Visintino al centro per Trieste è proprio lui ad avvicinarsi alla difesa in maglia bianca poi Bratkovic Aldini non riesce a ricevere si fa vedere allora Stojanovic che poi non si intende con Bratkovic palla recuperata da Turcovic prima occasione ora per Bolzano di portarsi addirittura in vantaggio la girella meravigliosa da parte di Filippo Pasini avete visto l'effetto che è impresso al pallone con un angolo inferiore ai 10 gradi a sfidare tutte le leggi della fisica con Zoppetti che è saltato sulla finta gran gol di Pasini che svita il polso primo vantaggio Bolzano grande giocatore Sto Pasini perché tra contropiedi anche questo bellissimo gol in girella veramente notevole ma è un giocatore insomma che ha girato tutte le nazionali giovanili purtroppo grande ancora Stojanovic importantissimo questo gol perché se Stojanovic riesce a dare un contributo buono in attacco è chiaro che la difesa deve trovare però loro ripartono molto velocemente questa seconda fase è chiaro che è una cosa dobbiamo stare molto attenti no vedo che mischia un po' le carte Freddi Radojkovic perché ha giocato prima con Bratojkovic terzino adesso con Visentino in posizione inusuale di centrale sta cercando delle soluzioni diverse dai consueti ruoli è importante anche per dare un po' respiro ai giocatori chiaro Rovati ne viene da un infortunio seppur leggero però effettivamente i giocatori sono contati è chiaro che è importante trovare delle soluzioni alternative e per esempio Stojanovic proprio lo dimostra con questi due gol che ha fatto fino ad ora gran gol terzo gol di Visentino terza rete firmata da capitane Visentino mentre prima Turkovic era andato prepotentemente a segnare la marcatura ancora in gioco veloce per il Bolzano parità ristabilita quota 11 quando mancano meno di 4 minuti alla pausa lunga ora il fallo di Mazzaroli su Pasini non è stato un fallo cattivo ma c'è da asciugare nuovamente il sudore sul parquet abbiamo visto come se si dà spazio a un giocatore come Dejan Turkovic lui va subito a guardare la porta ha un braccio veramente potente il croato nato a Pola ma con cittadinanza italiana capitano dei Bolzanesi punto ufficio anche della selezione azzurra lui che è cominciato qui vicino a Parenza nel 2011 poi dal 2011 scusate con Bolzano 5 scudetti 5 Coppa Italia 4 Supercoppe per 4 anni consecutivi nominato miglior giocatore italiano del campionato insomma il suo Palmares parla per lui non ho certo bisogno di presentarlo troppo Dejan Turkovic principale arma dei Bolzanini come un'arma molto pericolosa e anche la Dachis la bombarda con l'aiuto della traversa entra in rete nuovo vantaggio Bolzano ora spazio per Mazzarole tiro alto sotto la traversa buca le mani di Pedro Hermones gran gol di Gabriele Mazzarole poi la recupero di Trieste con un buon momento il contropiede lanciato da Parisato Rovatin la girella Tubertù con Hermones sul secondo palo Jack Rovatin parcelle di 2-0 Trieste che torna in vantaggio sulle 13-12 applaude il pubblico triestino e poi i due minuti dati alla Dachis arbitri inflessibili ma la reazione del Trieste no un'azione importantissima un 1-2 importantissimo fondamentale prima con Mazzarol bellissimo gol dalle aria con un bel angolo ma ha tirato molto bene a Hermones che è uno dei ricordo uno dei migliori portieri del campionato italiano sicuramente e poi questa azione di Rovatin giusti a mio modo di vedere senza poco da protestare da parte di Bolzano perché la cintura su Rovatin era abbastanza evidente quindi due minuti e se abbiamo un giocatore in più un gol in più mancano tre minuti scarsi è chiaro che adesso dobbiamo cercare di dare un break almeno per chiudere il primo tempo con un vantaggio sostanzioso e adesso è Bolzano che gioca con l'extra player con Hermones in panchina per mettere gli oltre tesini un uomo in più in attacco la parata di Zoppetti su Turcovic ma il fischio Sancisse il 7 metri il primo della gara per la lo hacker Bozen ad incaricarsene sarà Deanturcovic mentre tra i pali Fasanelli sostituisce Zoppetti Riccardo Fasanelli il rinforzo arrivato a gennaio dal Noci lui che ne ha parati diversi già di rigori qui nelle sue prime esperienze con Trieste non ci riesce ora dopo la finta e tiro di Deanturcovic 13 pari con due minuti e mezzo da giocare in questo vibrante primo tempo al Palacchiarbola vedete Visentin dare indicazione ai propri giovani compagni di squadra con eh sì setetto molto giovane questo delle Trieste Rovatin per Mazzarol questa volta si fa ipnotizzare da Pedro Hermones Pasini marcato stretto da Rovatin vedete la difesa alta di Parisato bravo anche diciamo ad interrompere il gioco dei Bolzanini mentre torna in difesa Di Nardo a dare manforte al centro anche perché è tornato in campo il pivotone Zoe Mizzoni c'è il secondo timeout della gara questa volta chiamato da coach Mario Sporcic che vuole organizzare disegnare parlare per ciò che riguarda gli ultimi due minuti scarsi di questo primo tempo col punteggio in parità era una bella partita finora viso aperto belle azioni nelle belle parti sicuramente da una parte nostra più forse è un gioco corale loro più puntano sulle azioni individuali e sulle prime e seconde fasi molto veloci però direi la realtà penso proprio per quello che sto vedendo una bellissima partita bella partita insomma di pala a mano era giocata bene sicuramente i portieri all'inizio hanno fatto un po' la differenza adesso è chiaro che le squadre si sono studiate cercando di trovare i giusti sistemi per scardinarsi a vicenda noi stiamo puntando più su un gioco corale forse un po' più aperto sulle ali loro più da parte dei terzini che sia la Dakis che sia Turkovic sono sicuramente i giocatori più da tenere d'occhio riprese le ostilità meno di due minuti alla pausa lunga con la difesa 5-1 vedete Visintin con licenza di alzarsi su Cantore Gaeta per Cantore che si sposta sulla sinistra ora Gaeta marcato da Visintin scambia nuovamente con il connazionale poi la bombarda di Turkovic sfiorata da Fasanelli può ripartire il Trieste esulta la panchina verso il proprio portiere sempre 6-0 voluta da Sporcic anche per questo finale di primo tempo Visintin Rovatin Stojanovic sale Parisato e va a portarsi centralmente Visintin guarda la porta poi scambia con Stojanovic la finta di andare a sinistra tentenna ancora il Trieste che fa circolare il pallone per trovare lo spazio lo trova con Parisato il tiro in sospensione la palla entra l'MLM per quello che vale il più uno Trieste 14-13 gol di Parisato Raggaeta contro Aldini sulla destra non vale il gol c'è stato il fallo prima prima del tiro sul numero 20 Jonas Mattà terzino destro 1,98 nato a Merano già battuto il 9 metri 8 secondi soltanto il tiro di Turcovic sparato da Fasanelli e poi il contropiede per Aldini che non riesce ad agganciare il passaggio lungo di Fasanelli si chiude qua il primo tempo fuori tempo massimo quest'ultimo tiro del Bolzano dalla distanza e quindi chiude avanti il Trieste i primi 30 minuti sul punteggio di 14-13 mi sento di dire un ottimo primo tempo da parte del Trieste che vuole la reazione vuole questi due punti assolutamente è quello che abbiamo detto all'inizio è importante per noi portare a casa sì due punti proprio per cercarsi di tirare fuori dalle sabbie mobili dei play-out ci stiamo credendo stiamo giocando bene abbiamo trovato gol importanti da Stojanovic un gol importantissimo da Parisato e Visentin sta facendo più del suo e Bratowicz uguale Mazzaroli un gioco bello corale una scopertita che sta giocando Trieste a viso aperto e d'altra parte sicuramente un Bolzano con grande esperienza Gaeta Turcovic Ladakis Hermone si importa sta trovando un Pasini molto valido sia in contropiede che anche sugli spazi pochi spazi che gli vengono concessi dall'ala è una bella partita piacevole ma soprattutto importante per Trieste chiudere il primo tempo in vantaggio proprio per dare un'impronta importante per cercare il risultato pieno oggi piccolo break anche per noi poi ci rivediamo per il secondo tempo tra Palamano Trieste e lo hacker Bolzano grazie a tutti grazie a tutti Grazie. 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 Radojkovic, Rovatina, Di Nardo, Visintin, Aldini e Bratkovic. Subito Turkovic a scambiare con il greco Ladakis. Il fallo di Triestini, nove metri già eseguito da Jonas Mattà. Ora Ladakis, palla in mano. La parata di Fasanelli sul greco. Il rimbalzo di Bratkovic che apre per Visintin. Bratkovic, Stojanovic. si va a sinistra da Jack Rovatin. Triest ha voluto cominciare con Fasanelli, non con Zopetti tra i pali. Scelta che ha pagato in questa prima azione del secondo tempo. Mentre Aldini scambia con Stojanovic. Si fa vedere Rovatin, poi Radojkovic. Ancora il giropalla dei Triestini. La bombarda di Stojanovic. Parata dal portiere brasiliano Pedro Hermones. Ultime due stagioni del Conversano. E prima ancora nella Liga a Sobal. Massimo campionato spagnolo. Mentre Turkovic la passa a Gaeta. E poi il tiro. Il Siluro che prende la traversa. E poi il portiere, anche fortunata. In questo caso il Bolzano Fasanelli non poteva nulla in questo frangente. Gol che vale la parità a quota 14 dopo 32 minuti di gioco. Per Trieste c'è Aldini ora in posizione di pivò. Mentre scambiano Rovatin e Radojkovic. Poi Rovatin trova il pertugio. Sbaglia soltanto l'angolo del tiro. Porta abbastanza sguarnita. Non in piena forma Jack Rovatin in questa serata. Mentre Turkovic con il palleggio. Radojkovic che è andato vicino alla palla recuperata. Poi è riuscito a riacciuffarla Jonas Matta. E allora ancora possesso al totesino. Con Dejan Turkovic che va a chiamare lo schema. Mentre Trieste continua a giocare con una difesa 5-1. Con Visintin più alto rispetto ai compagni. Ora il fallo sul solito Dejan Turkovic. C'è la bandiera del team Antoltesino. Con più di 1500 gol in 10 anni. E sono numeri importanti. Mentre c'è il tiro sbagliato da parte di Gaeta. Ma anche il fallo fischiato dagli arbitri. La palla rimarrà ancora in possesso dei bianchi. Nove metri eseguito da Matta. Gaeta raddoppiato da Rovatin e Visintin. Poi riesce comunque a bucare la porta da Fasanelli. Qui un tiro centrale ma potente. Da parte del numero 3. Luis Felipe Gaeta. Classe 82. Vantaggio Bolzano. Parziale di 2-0 per gli altoatesini dal rientro dagli spogliatoi. Trieste non ha ancora trovato la via del gol in questa seconda frazione. Rovatin, Bratkovic sugli scudi. Ancora Rovatin prova ad avvicinarsi ai 6 metri. Si torna fuori per Bratkovic. C'è Matta a chiudere la strada. Allora Sandrin prova a dare una mano ai compagni. Rovatin per Bratkovic. Dalla destra il gol all'incrocio di Adam Bratkovic. Che toglie la ragnatela dal 7. 15 pari. Alla pala chiarbola. Sarà tutto tranne che una partita tranquilla Marco. Al di là di quello che potrebbe dire la classifica per il Bolzano. Che non è sicuramente venuto qui in vacanza. No, beh chiaro. Giocare a Trieste ha sempre un suo fascino per quello che ha rappresentato Trieste. E Bolzano sicuramente non è venuto qui in gita. Chiaro che se posso dire la mia è una squadra che ha poco da dire. Visto la formula che c'è. Perché ha 7 punti dal quarto posto. Ha 8 da zona play out. Si trova a metà marzo a poter dire poco. Quindi anche l'interesse del campionato per varie società. Perché alla fine 4 faranno i play out. 4 faranno i play off. Ma le altre sono in una classifica dove hanno poco da dire. E poco da giocare. È chiaro. Questo può anche inficiare un po' anche l'esito del campionato. Chiaramente. Però detto questo. La partita è ancora piacevole. È rientrato Sandrini al posto di Stojanovic. Stiamo cercando in tutte le maniere di penetrare questa difesa abbastanza tosta. Questa 6-0. Buonissimo gol di Sandrini. Che segna il primo a rete. È importantissima. Perché chiaramente a destra siamo un po' deficitari. Però la verità è bravo Luca a segnare questo gol. Fosanelli ha preso già due gol un po' così di parte. Un po' evitabili. Sia questo che quello precedente di Gaeta. È chiaro che è buono. Ecco, rientra Zoppetti che al primo tempo, devo dire, ha fatto il suo dovere. Rientra Zoppetti tra i pali per Trieste. Mentre c'è un'interruzione del gioco per asciugare nuovamente l'umidità sul parquet di Trieste. Situazione, dice, Trieste 16, Bolzano 17 con Gaeta, l'autore dell'ultimo gol. La difesa triestina si è fatta nuovamente sorprendere un po' dalla rapidità della circolazione di palla Bolzanina. Oggi che non abbiamo nessun altro risultato degli altri campi da commentare. In questo fine settimana, infatti, non si giocano le altre partite del campionato di Serie A. Campionato che è fermo per gli impegni della Nazionale. Riprenderà sabato prossimo, il 26 marzo, con la ventunesima giornata. Una formula in questo campionato che, come dicevamo, non è criticata da pochi. perché alla fine soltanto quattro saranno le squadre che se la giocheranno per lo scudetto. Quattro, quelle per non retrocedere, tutte quelle nel mezzo. Come appunto lo hacker Bolzano rischia di andare in vacanza già prematuramente, inficiando un po' sulla serietà del torneo. Sono otto i punti che distano al Bolzano dalla quarta posizione. Quindi non matematicamente escluso dal discorso playoff, però se dovesse non fare i due punti oggi a Trieste, direi che il discorso playoff è chiuso anche per il Bolzano. Nel frattempo abbiamo visto un fallo abbastanza netto da parte di Jonas Matà sui triestini. Sarà il tiro dai 9 metri per Aldini e Sochi, già battuto. Un Trieste che deve recuperare una lunghezza di svantaggio. Radojkovic scambia con Rovatin e con Sandrin. Molto mobile ora la difesa Bolzanina, mentre Rovatin pesca Visintin, lasciato solo l'Ob che centra in piena la traversa. È stata una buona azione, una buona conclusione da parte dei Giuliani in maglia rossa. Soltanto il legno ha negato al capitano Visintin la gioia del gol con Trieste, che resta sotto di un gol dopo quasi 37 minuti giocati. Mentre gioca con l'extra player adesso il Bolzano, a porta sguarnita. Gaeta scambia con Cantore. La difesa alta di Aldini, si fa vedere Turkovic raddoppiato da Di Nardo. Il fallo di quest'ultimo. Mentre è tornato in porta Hermones, tiro stoppato raccolto da Matà. Poi il tentativo di rubata di Radojkovic che voleva la rimessa. Gli arbitri invece decidono per la rimessa a Turkovic che va a sbagliare, o meglio a far separare il tiro da un reattivo Nicolo Zoppetti. sempre 16 Trieste, 17 Bolzano. Mentre rientra per l'attacco Luca Sandrin. Terzino in crescita che sembra aver definitivamente risolto un problema alla spalla con lo attanagliava qualche mese fa. Sandrin per Bratkovic sulla destra. Tiro basso, schiacciato, imparabile stavolta. 17 pari, Adam Bratkovic. È giocato molto bene la superiorità numerica, un bello scalare da partito da Rovati, trovato Sandrin che ha appoggiato per Bratkovic. È chiaro che almeno quando siamo in superiorità numerica è importante non subire gol come è stato in questo caso con la parata di Zoppetti su Turkovic e segnare un gol, tra virgolette, facile con Bratkovic che ci permette di andare in pareggio. Adesso la partita, mancano 20 minuti, un po' più di 20 minuti e siamo ancora lì, due minuti giusti ad Aldini. Giusti perché il fallo su Gaeta era abbastanza netto. Quindi direi senza ombra di dubbio i due minuti ci stanno. Adesso è chiaro che giocheremo, dobbiamo tenere duro in difesa per non cercare subire gol e poi in attacco con l'estra player giocare alla pari. Si è poi stato annullato il gol con la palla che era entrata in rete. Bolzano potrà comunque giovare della superioreità numerica il quasi recupero di Trieste con il fallo di Bratkovic che sancisce l'extrapossesso Bolzanino. Turkovic con la finta Gaeta poi cantore in mezzo alla difesa sfrutta la superioreità numerica per trovare lo spazio nella difesa bianco-rossa e firmare il nuovo vantaggio alto a Tesino. Mentre torna in campo anche Zoe Mizzoni il pivò alto 1,98 per 125 kg lui che arriva da due stagioni con il Siracusa il numero 34 in forza del Bolzano. Pernic, Sandrin, Rovatin è un'occhiata allo specchio poi Radoykovic, Sandrin, Rovatin sulla sinistra c'è Vizintin ancora il palleggio il fallo in attacco da parte di Vizintin palla recuperata da Turkovic attenzione al gioco veloce di Bolzano poi torna in velocità la difesa del Trieste che un po' troppe volte si è fatta sorprendere con i contropiedi dei Bolzanini nel primo tempo specialmente Gaeta cantore Gaeta ancora per Turkovic vuole il passivo Trieste poi Bolzano riesce a servire Pasini sulle lato ma Zoppetti gli dice di no gran parata di piede di Nicola Zoppetti Turkovic e poi Guamata ancora Zoppetti stavolta con la manona a chiudere lo specchio e permettere a Trieste di restare incollata all'Oaker Bolzano 17 a 18 in favore della squadra ospite dopo 40 minuti giocati e 20 ancora da giocare con la partita in totale equilibrio tutto è ancora da decidere Trieste vuole tornare alla vittoria e c'è il gol di Jack Rovatin con il tiro sporcato dalla barriera bianca traiettoria che ha ingannato il portiere brasiliano Pedro Hermones poi la palla recuperata da Rovatin in sinergia con Jack Rovatin e adesso Trieste ha l'opportunità di riportarsi in vantaggio con un gol 18 pari dopo 11 minuti e 30 in questo secondo tempo e sentite anche i cori del pubblico triestino che vengono in aiuto dei propri beniamini ma come in questi momenti per la storia triestina c'è il bisogno dell'apporto del cosiddetto ottavo uomo degli spalti delle palla a chiarbola Sandrine Rovatin forse con la spinta il gol ancora di Jack Rovatin due gol consecutivi fermati dalla freccia con il numero 6 Trieste trova il vantaggio e poi la parata ma ci sarà il rigore rigore per il Bolzano fallo subito da Pasini Turcovic già con la palla in mano era andato era andato nuovamente a parare Niccolò Zoppetti e nulla può su questo tiro potente quanto preciso da parte del numero 23 Dejan Turcovic che ristabilisce la parità a quota 19 partita mi sento di dire per il momento bellissimo no una gran partita giocata veramente bene da tutte le squadre delle note di dualità ma anche un gioco corale ben costruito da tutti e due gli allenatori sia Sporcic che Radojkovic direi veramente molto molto piacevole sotto l'aspetto prettamente così poi grandissima palla di Bratkovic per Vizentin e il grandissimo taglio che inganna che inganna Gaeta veramente gran gol questo lo schema è riuscito benissimo da parte degli uomini di Freddy Radojkovic con Bratkovic che è riuscito a servire Vizentin che ha tagliato in mezzo all'aria 20 a 19 in favore delle Trieste con i Giuliani che continuano con una difesa abbastanza alta su Turcovic e compagni e poi il tiro forse in area stava per fischiare i 7 metri gli arbitri poi hanno semplicemente annotato il gol firmato dal numero 9 nuovamente Filippo Pasini alla sinistra ex Siena 20 pari con 16 minuti abbondanti da giocare 16 minuti di battaglia ne siamo certi Radojkovic Sandrin Rovatin si fa fatica a trovare il Pertugio allora si va da Sandrin che va in area e va a subire il contatto che vale il rigore 7 metri per Trieste buona intraprendenza da parte del giovane con il numero 33 in maglia rossa c'era bisogno di attaccare guardare la porta prendersi la responsabilità e lui l'è fatto bravo Luca veramente un crescendo il suo dopo due anni passati a girare le sciugamani in panchina veramente notevole la crescita che ha avuto gran gol gran rigore di Bratkovic nel frattempo ma Luca veramente ha avuto una crescita esponenziale in queste ultime partite la responsabilità che gli ha dato Radkovic è stata ripagata alla grande da lui e anche questo rigore procurato è stato importantissimo perché ci permette di andare avanti di uno a 15 minuti dalla fine della partita e non fallisce l'appuntamento con il gol Adam Bratkovic dalla linea dei 7 metri Trieste nuovamente in vantaggio sulle 21 a 20 ora Mizzoni servito magistralmente da Gaeta va a firmare la nuova parità quota 21 la difesa triestina è stata abbastanza attenta così come è stata attenta la difesa Bolzanina ora chiudere il passaggio di Radojkovic Sueldini è stato comunque il fischio arbitrale e il 9 metri già eseguito da Trieste Sandrine Radojkovic mentre Bratkovic arriva dalle retrovie scambia con Rovatin viene colpito fallosamente da Zoe Mizzoni fisicità dirompente per i quasi due metri col numero 24 mentre Bratkovic può vantare un sacco di qualità come tecnica velocità esperienza non certo stamina peso forse uno che i colpi contatti li accusa maggiormente ma restiamo concentrati sul match 15 minuti scarsi al fischio finale quando è tutto ancora da decidere in questo recupero della quindicesima giornata tra Trieste e Bolzano che se la stanno giocando a viso aperto Rovatin il passaggio per Radojkovic che si avvicina in paleggio serve Bratkovic sulla destra il lob ad ingannare l'uscita di Pedro Hermones ancora vincente Bratkovic nel duello col portiere brasiliano 22 a 21 e lui Bratkovic l'arma principale delle Trieste questa sera come in tutto il campionato il marcatore principale dei triestini il numero 77 che oggi ha scolinato quota 70 reti in stagione mentre la Dachis va a cercare Gaeta a tiro largo per l'italo brasiliano che ha disputato con il Brasile ben due edizioni dei mondiali poi ha acquisito la cittadinanza italiana punto fisso della società alto a tesina ora in svantaggio di un gol 22 a 21 con 13 minuti ancora da giocare sempre una 6-0 quella voluta da Mario Sporcic Radolkovic Rovat in insalto per Sandrin nel mucchio subisce il fallo di Dejan Turkovic e poi prova la sorpresa il colpo da biliardo Jack Rovatin a segno 23-21 ed è un segnale importante per i tifosi triestini così come lo è questa gran difesa di Di Nardo Trieste in contropiede poi torna la difesa è alto a tesina ma Radolkovic riesce a segnare nonostante il colpo subito al volto attenzione Radolkovic è rimasto a terra ha subito un colpo al volto segnando il gol lui che è stato l'autore del della ventiquattresima rete per il Trieste che ora è in vantaggio di tre lunghezze sul Bolzano gli arbitri hanno fermato il gioco adesso per il regolamento Radolkovic dovrà stare fuori per tre attacchi no anche questo è un assurda per virgolette è un livello nazionale assurdo non può entrare il massaggiatore perché sente il massaggiatore e lui deve uscire lui restando in campo dolorante magari bisognoso di qualche cura avrebbe bisogno del massaggiatore ma sente il massaggiatore e dopo per tre attacchi deve stare fuori e quindi non si prende le cure si rialza e via così anche questa trovo una regola a livello internazionale perché non è una regola del campione italiano un po' assurda perché se il giocatore ha bisogno di un po' di ghiaccio o di una cura veloce per entrare in campo poi gli si precludi l'ingresso per altri tre attacchi e niente questo è il regolamento il segnale che comunque Trieste ha un parziale aperto di 4 gol a 0 adesso avete visto il gol meraviglioso annullato però in girata da parte di Dejan Turkovic era stato il fischio prima del tiro del numero 23 ora ancora l'aggancio di Visintin su Dejan Turkovic deve andare al tiro Bolzano il passaggio al greco Ladakis che si avvicina a Gaeta pesca Mizzoni mezzo all'aria dimenticato dai Giuliani gol all'incrocio per Zoe Mizzoni 24 a 22 tutt'altro che morta il Bolzano anzi alza anche l'intensità difensiva poi il fallo non fischiato a Radojkovic con Pedermones bravo a catturare il pallone in un solo tempo Bolzano già dall'altra parte contro piede ancora polso svitato da Pasini Filippo Pasini quarta marcatura per lui meno uno Bolzano che dal parziale di 4-0 Trieste firma un controparziale di due retti a zero e si riporta in partita 24-23 con 11 minuti da giocare era stato un buon momento per Trieste che poi però si è lasciata quasi raciuffare dal Bolzano che ora dista ad una sola lunghezza di distanza vedete anche il ritmo più alto della difesa altoatesina Bratkovic ancora anche lui ad imprimere il pallone un effetto che lo fa terminare in rete 25-23 gran goal di Adam Bratkovic sta dando spettacolo al palacchiarvola nuovo più 2 Trieste con 10 minuti da giocare vedete anche Aldini ora alto in difesa per i Triestini la Dacchis dalla distanza il tiro schiacciato che rimbalza proprio davanti ai piedi di Zoppetti sono i tiri più difficili questi da parare quando la palla ti rimbalza davanti e si impenna e allora bravo il Bolzano a tornare a meno uno perché una squadra che nonostante non abbia più tanto da chiedere al campionato sta dando battaglia sta onorando la palamana italiana quella che sta dimostrando una partita dai mille volti Rovatin guarda lo specchio poi scambia con Visintin a servire Radojkovic ancora l'accentramento da parte dello sloveno Rovatin in due tempi riesce a racciuffarla a servire Adam Bratkovic che a tu per tu con il gol non fallisce nuovamente Adam Bratkovic a marcare per i Giuliani nuovo più due Trieste 26 Trieste 24 Loacker Bolzano meno di 9 minuti adesso al fischio finale un vantaggio importante ma risicato per il Trieste che deve assolutamente mantenere alta la concentrazione in difesa perché le bocche da fuoco del Loacker sono tante una fra tutti la Dachis che è appena andato a subire il contatto falloso da parte di Bratkovic il quale lascia spazio a Pernic ora in difesa mentre si va ad asciugare nuovamente il parquet ritmi alti Marco no ritmi per una seconda partita così ritmi veramente alti una bella pari a mano adesso che è fuori Turcovic è chiaro che la Dachis diventa la principale bocca da fuoco dobbiamo chiudere molto bene su di lui è buonissimo il cambio a mio modo di vedere per dare un po' di fiato a Bratkovic in difesa con Pernic è chiaro che il lavoro di Pernic sarà un po' difficile però sicuramente saprà dire la sua rientra Turcovic è chiaro che questa squadra di Bolzano non può prescindere da un giocatore come Turcovic proprio per il valore che ha di suo e il valore che dà in più alla squadra importante riuscire a chiudere tutte le bocche perché adesso a nove minuti dalla fine essere più due per noi è molto importante riuscire a mantenere questo vantaggio il pressing di Rovatin su Cantore ad allontanarlo il più possibile dall'area blu possesso ancora il totesino e la Dachis con la bombarda sul secondo palo braccio rovente quello del greco nativo di Creta tiro da oltre 12 metri che ha messo a dura prova la rete del campo di Trieste 26 a 25 7 minuti e 45 secondi da giocare Trieste più uno Rovatin Radojkovic il consegnato è per Aldino si torna da Rovatin ora Sandrina al centro e la Dachis si avvicina anche lontano dalla porta Rovatin la finta di passaggio poi Visintin è tutto chiuso Trieste sotto passivo Rovatin deve andare al tiro largo occasione per il Bolzano di riportarsi in parità nel caso dovesse andare a rete la Dachis Turkovic marcato da Bratkovic e ancora il gol da parte di la Dachis stessa posizione stesso angolo stesso risultato 26 pari con due gol di del peso specifico importante firmati da Emanuel la Dachis giocatore greco ex Cingoli e arriva il time out chiamato da Freddy Radojkovic momenti caldi concitati del match vuole richiamare l'attenzione dei suoi fa bene fa bene perché avevamo preso un buon vantaggio abbiamo giocato con oltre i metrami in attacco tenendo bene anche in difesa la Dachis ha un po' scombinato i piani chiaramente ha trovato due gol da 10-11 metri importanti forse un po' lento nella reazione Zoppetti ma sicuramente due bombarde come hai detto bene tu è chiaro che adesso a 7 minuti dalla fine pari la pari comincia a scottare è importante riuscire a portare a trovare qualche gol tra virgolette facile che può essere dall'area o qualcosa con buoni scalari però soprattutto tenere la concentrazione in difesa è successato il cambio tra Zoppetti e Fasanelli speriamo che Fasanelli riesca a neutralizzare qualche tiro in più di Zoppetti però devo dire la verità fino adesso una bella Trieste è giocato veramente veramente bene un Bratkovic immenso e un Rovati anche veramente notevole oggi come lo scorso sabato a Sassari è chiaro su queste punte qui dobbiamo puntare proprio se vogliamo riuscire a portare a casa il risultato Trieste vuole portare a casa il risultato così come lo sta portando la seconda squadra di Trieste che milita in Serie B e che continua a vincere in settimana Serie B di Trieste ha vinto 33-28 contro San Fior evidenziare 10 gol di night e 9 di Parisato e si è qualificata alle Final Six di promozione Serie B la seconda squadra di Trieste che l'anno scorso ha perso soltanto in finale per salire in A2 ci riprova anche quest'anno torniamo al match tra Trieste e Bolzano 26 pari 6 minuti e mezzo da giocare Radoykovic si fa ipnotizzare da Pedro Hermones qui non fischiano gli albitri e allora inerzia ora a favore del Bozen che dal 26-24 avrebbe l'occasione ora di ritrovare il vantaggio sempre 5-1 difesa la difesa di Trieste Turkovic con la Dakis cambia male poi riesce a riprendere la maniglia ancora Turkovic per Pasini il tiro corto Fasanelli fa il suo dovere e evita di passare in svantaggio Visintin ora passaggio rischioso per Rovatina il voglio per Sandrini non si intende con Bratkovic palla recuperata da Mizzoni contropiede di Cantore non lo seguono i compagni c'è anche stanchezza fisiologica in questo momento del match con Cantore che con Gaeta scusate che ritorna in campo al posto di Cantore mentre duettano Ladakis e Turkovic ancora Ladakis autore degli ultimi due gol fate tre perché è sua la firma sul nuovo vantaggio Bolzano 27 a 26 adesso Trieste deve ritrovare il lago della bussola perché non segna da tre minuti un po' troppe volte quest'anno abbiamo visto una Trieste combattere giocare bene fino agli ultimi minuti poi cedere all'avversaria Radojkovic per Sandrine la palla che viene presa e raccolta da Pedro Hermone sarà stato deviato della difesa il tiro adesso Bolzano gioca anche un po' con il cronometro non ha la fretta di andare alla conclusione visto il risicato ma importante vantaggio che sta ottenendo 26 a 27 ora tutta l'orgoglio di Di Nardo su Pasini Turcovic la finta Gaeta marcato da Di Nardo poi il passaggio non arriva a destinazione Fasanelli ci mette una pezza Bisintin poi va all'azione ragionata c'è bisogno di ritrovare la calma la testa mancano tre minuti e mezzo ci sono una vita nella palla a mano Rovatin scambia con Radojkovic riceve nuovamente Rovatin che riesce a trovare il corridoio palo ma c'è il rigore rigore per Jack Rovatin sette metri di importanza capitale per Trieste importanza capitale forse anche due minuti ci stavano anche due minuti per la spinta su Rovatin al momento del tiro diciamo che va ben così prendiamoci il rigore intanto a tre minuti dalla fine potrebbe dire pareggio in questo momento nel frattempo è rientrato Stojanovic in attacco al posto di Sandrin può essere un'arma in più a destra con qualche tiro da fuori però è importante intanto capitalizzare questo rigore con il tiro di Bratkovic Bratkovic a tu per tu contro Hermones finta numero uno finta numero due poi il tiro sul palo sinistro basso ancora il sangue freddo nelle mani di Adam Bratkovic 27 pari al di là di come termini il match darei a lui il man of the match della partita Adam Bratkovic terminale offensivo dirompente per i triestini ma andiamo a seguire ora l'attacco di Bolzano a due minuti e venti dalle termine la finta di Turkovic poi il passaggio a Mattà Bolzano sotto passivo la Dachis deve andare al tiro sbaglia stavolta non c'entra la porta attenzione cade molto male la Dachis contropiede di Aldini che va a segnare in lob attenzione perché sembra si è fatto molto male Emanuele la Dachis lo vediamo sofferente gli arbitri volevano che si interrompesse il gioco Trieste si è involata il contropiede gli arbitri non hanno fermato il match un po' come il contatto su Radolkovic una decina di minuti fa Aldini è andato a segnare un gol di dal peso specifico molto importante e lui che nell'ultima partita casalinga lo ricordo aveva sbagliato due contropiedi sul più tre che non si dà mai la colpa agli episodi però se si fosse andato a più quattro no Marco due settimane fa forse Trieste avrebbe due punti più in classifica Cassano meno due non ha sbagliato adesso Trieste a più uno a un minuto e cinquanta dal termine siamo comunque felici che la Dacchis si sia rialzato e quindi abbia subito soltanto un colpo ma nulla di grave per lui mentre ci sarà un tiro da nove metri per Ebolzano Turkovic si incarica lui del tiro Fasanelli c'è Fasanelli c'è non si fa sorprendere esulta il pubblico di Trieste adesso bisogna giocare con intelligenza e con calma Trieste ha una lunghezza di vantaggio e mancano 70 secondi al termine del match arriva anche il pubblico in sostegno dei Beniamini Giuliani Rovatin al centro a dettare i ritmi di questo che potrebbe essere l'ultimo il penultimo attacco della partita Stojanovic per Rovatin la finta il passaggio intercettato da Gaeta attenzione al contropiede di Bolzano la Dacchis per Pasini forse era entrata in aria va comunque a segnare il numero 9 Filippo Pasini gol del pareggio a quota 28 a 30 secondi dalla fine adesso Trieste ha il match point perché probabilmente la terraffina in fondo mancano 29 secondi in questo momento sul punteggio di 28 pari Trieste ha l'ultimo attacco per centrare la vittoria ovviamente arriva il time out chiamato da coach Fredri Radojkovic per disegnare lo schema e cercare il tiro vincente palla pesante palla che scotta però abbiamo 20 secondi per costruire un buon attacco chiaro difficile difficile perché chiaramente Bolzano difenderà con la 6-0 sua classica però un po' più aggressiva sicuramente per cercare di impedire tutte le varie possibilità di attacco che potrà trovare Trieste speriamo che Radojkovic disegni un buon attacco con una buona idea che soprattutto i giocatori la mettano in funzione proprio per cercare di trovare questo gol che ci darebbe un vantaggio che a quel punto diventerebbe incolmabile per Bolzano 18 secondi al fischio finale vedremo quali saranno le soluzioni disegnate volute da coach Fredri Radojkovic Trieste in campo con Fasanelli tra i pali poi capitano Vicentino Rovatin Aldini Jan Radojkovic Alexander Stojanovic Adam Bratkovic sulla destra 28 pari 18 secondi cronometro partito ora Stojanovic Radojkovic Tentenna ancora con il cronometro Rovatin poi si avvicina Stojanovic per Radojkovic è tutto chiuso il passaggio alto per Rovatin il palo il palo interno poi la palla finisce fuori termina qua il match Trieste vicinissima alla vittoria era stata molto bella l'azione di Trieste che aveva trovato proprio a fil di sirena Jack Rovatin uno dei migliori tiratori di Trieste per una volante un tiro in sospensione soltanto il palo il legno ha negato a Trieste i due punti io direi comunque alla fine un risultato giusto Marco entrambe le squadre che meritano un punto in classifica se si potesse ne avrebbero meritati entrambi due perché hanno dato luogo da avere una partita vincente emozionante combattuta bravo il Bolzano a restare in partita al di là di quello che dice la classifica in cui anche con questo pareggio ufficialmente sia salvo che fuori dalla lotta playoff un punto perso per una Trieste che si meritava di più ma ha dato comunque c'è stata la reazione da parte dei dei triestini ha dato segnale di esserci di avere orgoglio e quindi 28 pari il risultato finale direi migliore in campo Bratkovic assolutamente hai detto tutto bene tu una Trieste che è reagito che è stata pronta le varie situazioni anche difficili così con l'infortunio di Di Nardo subito sopperito una Bolzano Maidoma una Bolzano che ha giocato molto bene ha trovato un laddachis superlativo nel secondo tempo però Trieste è asciutto a rispondere a tutte le loro mosse con varie situazioni sicuramente Bratkovic il man of the match ha giocato una partita strepitosa ma devo dire anche per l'ultima parata di Fasanelli importantissima che ci ha permesso di arrivare all'ultimo attacco un po' di sfortuna sicuramente però un'azione costituta molto bene durante il time out di Radojkovic con questa volante inaspettata sulla parte del terzino destro di Rovating solo il palo non ci ha permesso di festeggiare i due punti che a mio modo di vedere erano meritati in pieno per la partita giocata oggi da Trieste ottimo soluzioni soprattutto dal punto di vista offensivo per Trieste una squadra che mediamente ho fatto i calcoli segna 24 gol a partita oggi ne ha segnati 28 colpendo anche più pali quindi brava Trieste che acquisisce un punto in classifica e il prossimo sabato il 26 marzo giocherà ancora qui in casa alle ore 19 contro l'Alperia Merano Bolzano invece la prossima giornata osserverà un turno di riposo e giocherà quindi appena il 2 aprile a Bressanone partite chiaramente tutte visibili e da gustare su Eleven Sport siamo in chiusura io ringrazio Marco Le Duca grazie a te Sebastia e grazie a tutti i telespettatori e allora da Sebastia Romano è veramente tutto ricito il punteggio parità totale al Palacchiarvola Trieste 28 Loacker Bolzano 28 ci vediamo alla prossima